Allora adesso mio amore ha un dubbio esistenziale su come aprire l'uovo di Pasqua ed è andata su YouTube per un tutorial e ha trovato... Ma perché? Amore adesso ti vogliamo vedere aprire l'uovo di Pasqua come il bambino su YouTube No! Ma no! Ma perché c'è dentro una pillola strana? Vediamo il regalo Aprile come il bambino, aprile come il bambino, vai 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 Non ho parole Niente è il terzo uovo di Pasqua che apre trova la stessa sorpresa Facci vedere la bellezza della sorpresa Un fantastico porta chiavi Un po' di Barbie Amore che delusione Sì Buongiorno Oggi prima giornata di riprese del nuovo video Figa siamo qua alla Fashion Week a questo evento con un impianto da rave da 2000 persone con la musica d'acquario Controlliamo quali sono gli hashtag di oggi Ciao Quali sono i trend del momento Ho appena finito le riprese del mio nuovo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti